Ciao ragazzi, eccomi oggi con un video tag allarghiamo le nostre cerchie sono stata taggata da Annie Rossi vi mando un bacione aspetta che sposto questo ok, oggi ho un'allergia assurda non so che cosa ho preso l'antistaminico, ho un raffreddore va bene, iniziamo subito con le domande allora, prima domanda come consideri il sub4sub? io mi iscrivo al tuo canale e tu ti iscrivi al mio allora, per me la cosa fondamentale è iscriversi a un canale secondo me perché ti interessa guardare i video di quella persona perché ti piace quello che fa quindi non mi piace che una persona si iscriva al mio canale solo perché io mi sono iscritta al su nel senso, se lo fai perché mi guardi e ti fa piacere guardarmi allora sì, però se lo fai semplicemente per mettere un'iscrizione in più, no non fa numero, ma cosa mi interessa a me è avere una persona in più se poi non mi guarda quindi no due qual è il miglior modo per farsi conoscere su youtube? beh, il miglior modo per farsi conoscere beh, sicuramente magari fare anche qualche collaborazione per esempio come ha organizzato Freddy Kitty qualche volta di fare delle collaborazioni tutte insieme per far conoscere di più i canali piccoli ecco questa è una cosa molto utile e poi soprattutto fare video magari un po' diversi dal solito un po' più interessanti non sempre sulle stesse cose prendere spunto da altre ragazze che fanno anche video di varia genere per esempio non so fare i room tour fare non so vedere l'acquastazione e i make up sono tutti quei video che alle ragazze piacciono fare non so vedere dei tutorial di trucco fare dei tutorial anche semplicemente per creare delle cose fai da te decoupage faccio un esempio tutte cose manuali che si sa fare o anche chi crea cose col film o chi ha insomma passioni che vuole condividere con le altre persone tre ti piace fare collaborazioni lo trovi utile per farti conoscere sì penso che sia abbastanza utile collaborare con altri ragazzi ho fatto qualche collaborazione ma non tantissime per ora però penso sì possa essere utile perché la gente possa visualizzarti magari di più rispetto a quando fai solo video tu da solo quattro menziona cinque canali piccoli che segui quotidianamente allora cinque canali allora anni rossi poi valentina fruzza poi chi c'è ragazzi scusate ma apro youtube perché non non mi ricordo tutto ne ho talmente tanti che che ne seguo che mi devo preparare vediamo ve lo dico subito e poi chi è che seguo jacksy avon che siamo a tre poi seguo michelle cosmesi siamo a quattro e cinque l'angolo di debbie siamo a cinque poi quali sono secondo te le caratteristiche per far piacere un video le caratteristiche secondo me sono intanto essere se stessi quando si girano i video essere simpatici insomma fare un video con la voglia di farlo con la passione io faccio i video di avon perché mi piace mi diverte e spero anche di far divertire chi mi sta guardando e poi tanti altri video per essere magari in compagnia anche perché mi fa compagnia guardare i video di altre ragazze e spero che faccia compagnia anche seguire il mio canale ecco quindi per me è questo essere se stessi e far divertire gli altri poi sei quanto sei attiva sugli altri canali lascia i commenti o like allora solitamente lascio dei like e non sono una che commenta tantissimi video magari un video che mi piace però non è che mi aiuto a scrivere o fare poemi sotto però a volte si lascio qualche commentino non sono attivissima però lo faccio mi piace molto guardare guardare e mettere dei like questo si perché guardo tantissimi video in una giornata e mi metto lì la sera prima di dormire e me ne guardo tantissimi poi sette dacci un'idea originale per un prossimo video un'idea originale beh avrei voglia di fare qualche video diverso dal solito che non sia sempre di spacchettamenti avon perché dopo magari mi se ne sarà un po' una rottura però mi piacerebbe non so fare un video sicuramente un tutorial di make up perché non ne ho fatti tanti oppure anche non so come organizzo il mio armadio cioè non so per esempio faccio vedere come divido le cose dove le metto i miei contenitori per l'armadio faccio un esempio quasi così cose utili per l'organizzazione della casa dell'armadio un po' di cose varie poi 8 qual è la tipologia di video che ti piace di più? vabbè sicuramente i room tour io amo i room tour mi piace vedere l'arredamento degli altri e i video di make up collection perché io vado matta per il make up e quindi mi piace un sacco vedere video di questo tipo e poi ovviamente anche spacchettamenti avon spacchettamenti brochet però dato che li faccio anche io i prodotti ormai li conosco tutti magari mi interessa vedere molto quando si sono prodotti nuovi in anteprima e che io non ho ancora potuto vedere quindi questi sono i tre tipi di video che a me piacciono poi 9 c'è qualcosa che ti è scoraggiata nel fare video? beh scoraggiata no anzi sono molto contenta di farli e sono anche contentissima di avere delle visualizzazioni in più avere nuovi iscritti perché stanno aumentando un casino e sono contenta quindi ringrazio tutti gli iscritti però no che mi abbia scoraggiato no perché lo faccio per passione quindi per passatempo non mi ha scoraggiato nulla in particolare 10 menziona una cosa che hai imparato guardando altri canali beh guardando altri canali cosa che ho imparato beh sicuramente a vedere dei canali che vengono ben curati dalle ragazze e che danno molti consigli su varie cose come già da come è impaginata la presentazione del canale all'intro che c'è la musichetta con scritto insomma il tuo canale io non sono capace di fare queste cose però è molto utile vedere da altre persone come sono organizzati i loro canali e come presentano i video quindi anche le idee che lasciano di di vari tipi di video quindi mi piace seguire molto le ragazze che sono piene di inventiva insomma curano il canale molto di più di come magari lo faccio io che io faccio i video e li carico così buttati lì ma anche perché non è che si mette lì al computer a fare tutte le non so attaccare i video modificarli così però questa cosa è utile 11 cosa ne pensi dei canali che fanno solo giveaway il fatto è che io non capisco questa cosa di regalare le cose va bene che vieni visualizzato da un sacco di persone e un sacco di persone ti commentano se è per questo che ti interessa fare un giveaway posso capire che diventi famoso in due secondi perché regali delle cose alla gente però non concepisco questa cosa di farli oppure come gli scambi gli scambi di prodotti che ti mandi le cose ma non so io un giveaway non l'ho mai fatto e non penso di farlo quindi è una cosa che particolarmente non mi colpisce ecco poi 12 tagga 5 persone allora taggo vi dico un po' di nomi allora io taggo Alice Makeup Love poi taggo Jack Siavon l'angolo di Debbie Makeup Nancy 58 e manca l'ultimo Sproloqui di Deb siamo a 5 questi sono i tag spero che il video vi sia piaciuto vi mando un bacione e ciao ciao